Immagini, foto, ricordi, sensazioni, nel matrimonio c'è anche tantissimo di tutto questo. Voi cominciate a lavorare prima del giorno fatidico. Ne parliamo con Gerald Castagna di Bocche, che da fotografo sa bene quanto i ricordi vadano costruiti con le immagini in un modo specifico. Abruzzo Sposi, 25esima edizione, all'interno di un museo fantastico. Che esperienza è? È un'esperienza nuova, è un'esperienza molto bella essere immersi tra tutti questi oggetti. Crea un'atmosfera molto particolare, molto adatta anche a vendere questo tipo di prodotto. Vedo che le coppie sono molto interessate, quindi siamo contenti. Quindi l'esperienza fotografica si unisce a quella che è la sensazione della tradizione e il vissuto raccontato ancora. Assolutamente, il passato e il presente che si incontrano. Quindi siete contenti, soddisfatti? Molto soddisfatti, sì. Abruzzo Sposi ha fatto un bel compleanno con il suo 25ennale. Assolutamente sì. Grazie Gerald, grazie mille.